L'ex presidente del Brasile, Luis Ignazio Lula de Silva, ha perso l'appello contro la condanna per corruzione e riciclaggio per la vicenda di un appartamento che avrebbe accettato il regalo da un'impresa di costruzioni. Una sentenza che mette a serio rischio le sue chance di potersi ricandidare alle presidenziali di ottobre, dove era il principale favorito nei sondaggi. Due dei tre giudici della Corte d'Appello, nella città meridionale di Porto Alegre, hanno stabilito che la sentenza a nove anni e mezzo dovrà essere estesa ad oltre dodici anni. Già prima del verdetto, Lula si era detto pronto a combattere per la dignità del popolo brasiliano, ribadendo di non aver commesso alcun reato. Il paese si è fermato per seguire in diretta il processo, che ha un forte valore simbolico, e migliaia hanno sfilato per sostenerlo in diverse città del Brasile, con le bandiere rosse del Partito dei Lavoratori. Per moltissimi, lui rappresenta ancora la speranza. E Lula ha parlato in piazza a San Paolo. Vorrei che mi dicessero quali crimini ho commesso. Mi condannano ancora una volta per questo appartamento che non è mio, ha detto. Non sono il proprietario. Se mi condannano, devono darmelo. Allora sì che sarebbe giustificato. Per Lula però non è ancora detta l'ultima parola. Spera in una serie di ricorsi possibili che gli consentirebbero di arrivare all'iscrizione nelle liste elettorali prima dell'esecuzione della sentenza, e magari evitare il carcere. Questa provocazione brucia. Ora voglio candidarmi come Presidente della Repubblica, ha detto davanti ai molti sostenitori. Possono fermare Lula, ma le mie idee sono ben salde nella testa dei brasiliani.